Prosegue il programma della stagione teatrale della Brigata d'Arte qui al Martoglio di Belpassi e al Metropolitano di Catania. Siamo al terzo appuntamento. È un lavoro importante questo che abbiamo portato in scena con un assoluto protagonista del teatro siciliano e nazionale sicuramente che adesso già state vedendo, lo vedono sicuramente, stanchissimo perché già usciamo fuori dal debutto vero e proprio. Dicevo il programma della stagione, ormai siamo al terzo appuntamento, abbiamo voluto con questo spettacolo che è un classico della drammaturgia martogliana onorare un nostro figlio, Belpassesi assolutamente, forse è descritto nelle note di regia il padre del teatro siciliano in assoluto, sicuramente per cui noi siamo contentissimi di aver affidato questo spettacolo ad un beniamino del pubblico belpassese della Brigata d'Arte ma direi un beniamino del pubblico del teatro nazionale. Pippo Pattavina, vi lascio con lui e grazie alla vostra emittente noi ci vediamo sempre, quando sentite Brigata d'Arte veniteci a trovare o che sia qui a Belpasso o che sia al Metropolitan vi aspettiamo. Grazie, vi lascio con il grande Pippo Pattavina. Puoi raccontarmi un po' di questo spettacolo di stasera? Beh, cosa c'è da raccontare che non si sappia già di questo spettacolo, che come diceva Sangani è uno straclassico del teatro siciliano perché l'aria del continente, l'hanno fatto duemila compagnie, credo che continueranno in futuro a recitarle altre duemila compagnie perché è un testo su cui si va sul sicuro, un testo straordinario nella sua composizione, nella sua drammaturgia, nella sua comicità, nel suo gioco del teatro perché Martoglio era un grandissimo uomo di teatro, proprio sapeva perfettamente come si deve muovere la macchina del teatro tanto che Luigi Pirandello, il grandissimo, immenso Luigi Pirandello, ogni volta che scriveva un'opera gliela sottoponeva al suo giudizio per dire Nino, guarda tu, dimmi il tuo parere, come ti sembra? Quindi addirittura Luigi Pirandello, questo per stare a dire, che cosa rappresentava veramente Nino Martoglio. Io sono felicissimo di recitare questo ruolo, fra l'altro questa è la terza edizione che faccio perché ne ho fatto un'edizione tantissimissimissimissimi anni fa con il teatro stabile di Catania doveva ricoprire il ruolo di Coladuscio, quello che faccio io stasera, il protagonista era il grande Turiferro io allora ricopriva il ruolo di Michelino, c'era una compagnia straordinaria, Veninchi, Umberto Spadaro una compagnia, Mariella Lo Giudice e io dopo tantissimi anni l'ho riproposto al teatro stabile circa 14 anni fa, mi è stato proposto di riproporlo e io felice mi sono sobbarcato a interpretarlo e a fare anche la regia e fare le due cose in contemporanea è una cosa pesantissima perché l'ideale sarebbe soltanto il ruolo del regista che tu stai, guardi gli attori, li fai muovere ma recitare contemporaneamente e dirigere è molto pesante. Credo di esserci riuscito perché è una compagnia molto compatta, una compagnia che già ha lavorato con me per cui io li ho spremuti fino all'osso perché io sono molto cattivo quando faccio il teatro ma proprio perché voglio tirare il massimo dagli attori, il massimo, massimo, massimo per cui credo che il risultato sia positivo in quanto il primo spettacolo è stato un susseguirsi di applausi quindi lo spettacolo è piaciuto. D'accordo e se mi puoi dire due parole su come a livello tecnico utilizzate questa bellissima scenografia? Ma moltissimo, il teatro è fatto da tantissimi elementi il teatro è fatto da attori, è fatto da scenografia, è fatto dalle luci ed è fatto dai costumi se ci sono questi tre ingredienti attorno all'attore lo spettacolo riesce al massimo della sua bellezza però io ho la presunzione di dire che lo spettacolo si identifica solo nell'attore perché? Perché l'attore da solo può anche fare uno spettacolo senza scene, senza costumi, senza niente e se è bravo far capire al pubblico che in quel momento è vestito in una determinata maniera e ha una certa età e ha un certo carattere e glielo fa credere il teatro fatto soltanto di luci e di scene non si fa, è inutile, ci vuole l'attore però quando ci sono le luci e quando ci sono le scene e quando ci sono i costumi è come un abito bellissimo che viene cucito, una sartoria di grandissimo livello perché la donna è scarsa e cimenta è camisola, scattare, pulpetta sappiate che le donne non ce l'hanno qua grazie cari, grazie